Grazie. 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 Ok Max, un momento, fermo in un volo, 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 fermo in un volo Grazie. 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 ...perfetta posizione... ...perfetto. Restano nella posizione solo... ...le gambe esterno... ...inter... ...sì, sì, magari... ...sì, superiore... ...sì... ...sì... ...sì, bravo... ...bravo... ...ditto... ...ci piccolo circolo... ...l'arte... ...viene la stessa... ...zela spare dentro e subito la colpa... ...el centro. ...sì... 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 OK. E' altro? ...prontato... E sulla allungata, ancora una volta spalle in tempo. Un lato lungo, ricomincia con la spalla in tempo. E dopo avanzare. E dritto e avanzare. Ancora, devi avanzare un po' di più. Ancora, devi avanzare un po' di più. Ancora. Ok. Buongiorno, questa è la prima lezione oggi con Massimiliano Ferrario e con il cavallo Rigoletto. Un po' di più. E la volta, una volta spalle dentro. Parco. Perché dietro e la volta. E la volta. La letta. La letta. E riunire un po' tra mani e gambe. piano. Con l'assetto che ti ha spiegato prima. Via, 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 via. E cambiare di mano. Senti Luigi. Cambia di mano. Senti Luigi. Cambia di mano. E poi, via, via. E poi, come si mette a fare? Grande cimpro. E poi, come si mette a fare? Grande cimpro. E poi, come si mette a fare? Riccetto io. Riccetto io. Va bene. Grazie sui ricordi. Dai, questa è la metà della mani e lo avanza. Giri prima del lato. Giappone. Quattro. Quattro. Grande cimpro. Un hammer fume. Quattro. Vigile qui liorry c'è? In vista, non. Non, perché andadomo! E in servizio di ruï bleu, da micologi lato numero di ru tava. Quattro. Quattro. Spic卍. Quattro. Ca. Passire. Per effort. Pspe hobby. Perfetto. Continuo. 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 Sticcolo circolo. Sticcolo circolo. E dritto. Dritto. E ancora una volta. Sticcolo circolo. Ancora un piccolo circolo. Sticcolo circolo. E ancora una volta. Ancora una volta. L'intorno all'oxer. Piccolo circolo. E dritto. E dritto. Un piccolo circolo. Un piccolo circolo. Un piccolo circolo. Un piccolo circolo circolo. Grazie. Bravo. Grazie. Parfait. E grazie a tutti. Grazie. 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 Preparare il piccolo circolo. Ditto. Ancora un piccolo circolo. Avanti, ancora un piccolo circolo più avanti. Ditto. Ancora un piccolo circolo. Fai avanti e fai un piccolo circolo più avanti. Sì. Sì. Bene. Bene. Dritto. Vai dritto. E ancora una volta un piccolo circolo qui. Qui? Vieni, vieni. Adesso un piccolo circolo qui. Bene. Si piegava prima. In maniera divinto, di usare il tuo assetto senza piegarmi. Nel angolo, nel prossimo angolo, un piccolo circolo. Con l'accessione della gamba, rimanendo nella posizione, con la gamba in terra senza piegarmi. Bene. E avanzando. E avanzando. Non è grave, dice. Basta che avanza. E cambia di mano? Cambia di mano, Max. Sì. 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 E il galopto normale, e ancora una volta leggermente, nel movimento del cavallo, il tuo aspetto, avanza, 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 avanza. E ancora una riunione, rilascia il tuo corpo, si, 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 e avanza, avanti, di nuovo. Rilascia il tuo corpo, riunione e poi transizione al corpo. Rilascia il tuo corpo, riunione e poi transizione al corpo. Rilascia il tuo corpo, riunione e poi transizione al corpo. Rilascia il tuo corpo, riunione e poi transizione al corpo. Rilascia il tuo corpo, riunione e poi rilascia il tuo corpo, riunione e poi rilascia il tuo corpo. Rilascia il tuo corpo, riunione e poi transizione al corpo. Rilascia il tuo corpo, riunione e poi transizione al corpo. Rilascia il tuo corpo, riunione e poi transizione al corpo. Ok. Rilascia il tuo corpo, riunione e poi transizione al corpo. Rilascia il tuo corpo, riunione e poi transizione al corpo. Grazie. 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 Ok, let's start doing a few jumps. Now you can do, you can do three zoom jumps, I will jump this one and that one. Ok? And then you turn to the right This one and the other one there Thank you Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Lavora con la tua parte sinistra del corpo. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 , grazie a tutti. la buona galoppo nella curva 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 la buona galoppo la buona galoppo nella curva 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 . . a tutti. . 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 Ah, yes. And just walk a little bit there. Minimamente un pochino adesso. And then you pick up the left hand. One more time over the stage. One more time and then just... Yes, sir. Okay, pronto, distensione. Ottima la campione, come si è seduto, come l'assetto, si è fermato. Just control this body with your body, yes, like that. And take a big scoop here. Big scoop. But still focusing slowly down. And now when you're slowing down, now slowly you do more and more. Or if you're stretching the door. So what I said before how come this is... So what did the pullman go ahead? Well, thank you in the frame. ... 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 a un punto, si è fatto, si è quello che deve essere un po' di più, ad un punto, a un punto di tempo, a dobbiamo essere quasi un po' di più, e poi, con la connella, e magari tu possono essere così, perché il corpo è così short, quindi si possono essere così da fare in giro, un po' di giro, un po' di giro, e quindi ci sono proprio questo, perché non è un po' di giro. Un po' di giro, un po' di giro, un po' di giro, un po' di giro. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. a tutti. , a tutti. 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 , , , , a tutti. a tutti. , , , a tutti. , 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 ,, , , ,, , , , , , , , ,, , ,, , ,, ,, , , ,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,, ,, ,,, ,, ,, ,, ,,, ,,, ,,, ,, ,, ,,, ,, ,,, ,,, ,,, ,, ,,, ,, ,, ,,, ,,, ,, ,, ,, , Grazie. 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 Ok, guys, we go. One. Two. Three. Four. Five. Five. Then you go back, go to the other one. Then the other one, just this one. And then you go to the other one. And then you go to the other one. And then you go to the other one. That's all. Now that's four. Just start with . and start with . I said there is a couple of . Did I keep down in . Did I keep down in . . . Grazie. 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 Dice che con un po' tempo arrivi lasciando la distanza un po' spenta. Grazie. Grazie. L'esprit du temps. Dai itsensi! Si, dico, la direzione di fare gli uomo! Il che è stato il 3 fibre per dare un po' più di pace per fare qualcosa che bisogna risolto. Ora, il bisogna di farvi di fare tanti passi. Ok? Alla E' un po' più di spazio perché è così caldo che vado a pensare, invece lo lascio arrivare così spento, vicino. E' un po' più di spazio. E' un po' più di spazio. E' un po' più di spazio. Grazie. 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 Grazie a tutti. Ha corretto le mani a puniere e le vuole più avanti e più vicine. Grazie. 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 Adesso inizia il lavoro. Adamo Giubatelli. Con Calgary e Alci. spesso. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 , grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. , grazie a tutti. Grazie a tutti. , grazie a tutti. Grazie a tutti. , a tutti. , a tutti. , grazie a tutti. , grazie a tutti. , a tutti. , a tutti. , a tutti. , grazie a tutti. , a tutti. , a tutti. , a tutti. , , , a tutti. 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 , , a tutti. , a tutti. , , a tutti. 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 , , a tutti. 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 , , a tutti. 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 , , a tutti. , a tutti. , a tutti. , , a tutti. 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 , , a tutti. 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 , a tutti.